Cari amici, vi saluto da Casa Rud di Caserta, da questa magnifica alleanza fra donne, un'alleanza per la vita, dove si compiono non gesti clamorosi, ma gesti potenti, come quelli di Gesù. La prossima sarà l'ultima puntata di questi cinque anni passati insieme attorno alla parola di Dio. Grazie per il vostro ascolto, per aver fatto entrare il Vangelo nelle vostre case. Una domenica di luce a tutti, nel nome del Signore.